Dottore, ah vi giuro che l'aspetto stamattina, ma in dove se ne andò? No, ero... Affari miei, Catarello, ma chi vuoi? Ha trovato l'intirizzo in dove si trova la signorina Livia, e all'hotello Margherito, e sul Montensirmola, ci scrisse pure un numero. Bravo, Catarello, ottimo lavoro, ottimo lavoro, Catarello. Grazie, dottore. Sì, salve, il commissario Montalbano sono. Senta, l'ho fatta chiamare da uno dei miei agenti per avere delle informazioni su una vostra cliente, la signorina Livia Burlando. Sì, leggo qui che Livia Burlando e Simone Zoinert lasceranno la camera domattina. Come ha detto, scusi. Simone? Zoinert, Simone Zoinert. Alloggiano insieme alla camera 31. Ah, la ringrazio. Livia! 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, riconosciti. Livia mi parla sempre di te. Ah, sì? Vuoi per caso darci una mano con i bagagli? Sì, come no? Dobbiamo parlare a lungo, eh? Mi devi dire tutto di te. Aless. Quanto ti trattiene? Non molto, poco. Passi? No! Qualche giorno devi rimanere per forza. Non vieni mai qui. Io non so, proprio. Livia, ma come... Ehi. Ehi. Grazie a tutti.